Non poteva esserci regalo più bello per tutti i fan di Miyazaki, che potranno tornare al cinema a gustarsi la città incantata, indiscusso capolavoro d'animazione, vincitore del premio Oscar nel 2003. La pellicola sarà nelle sale per tre giorni, dal 25 al 27 giugno, in 190 cinema italiani, con una versione in parte rinnovata. La Lucky Red ha infatti voluto rispolverare il doppiaggio del film, rendendolo più simile all'originale giapponese. La voce della piccola protagonista è stata affidata a Vittoria Bartolomei, provinata e scelta per questo compito indubbiamente complicato. Il doppiaggio dei film di Miyazaki è infatti spesso finito sotto la lente di ingrandimento dei fan, a volte soddisfatti, altre volte molto critici nei confronti della traduzione e dei dialoghi. Chissà cosa ne penseranno di questa nuova versione, che anticipa il ritorno sul grande schermo di un altro lungometraggio di Miyazaki. Se alza il vento sarà infatti nelle sale a settembre per quattro giorni, dal 13 al 16. Segnatevi le date.